di quelle cose, di quelle domande anche complicate e difficili che sono state poste anche non ultimo dalla signora che ha parlato una sola cosa voglio dire, posso condividere tutto l'intervento che è stato fatto prima una cosa non condivido, non è una perdita di tempo il 16, il 16 è un impegno forte perché se noi non vaggiamo, non distruiamo le orecchie all'amico Oliverio difficilmente il 16 è una tappa importante, la parola è sempre ma io ho ascoltato